Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e P1 Variante. In FIPRI segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Pisa Aeroporto e Bibio di Ramazione Pisa, raccordo Pisa Centro e tra Firenze Vedotte all'Indiano e Firenze Scandicci, il tutto in direzione Mare. Per il traffico ferroviario segnaliamo che quest'oggi è previsto il treno straordinario 89-689 in partenza da Firenze alle 18 e diretto a Faenza. Le fermate intermedie sui nostri canali social. Con sguardo al traffico urbano di Firenze segnaliamo che via Ursan Michele è chiusa per materiale in carreggiata con blocco temporaneo della circolazione. Alteriori dettagli nelle prossime edizioni. Può aver sentito Scana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.